Ma quanto sono grandi alcuni animali o quanto sono stati grandi? Nonostante le dimensioni siano cambiate con il tempo, ci sono alcuni esseri ad essere... wow, che squallore, esseri ad essere. Scusate, dicevo, alcuni animali sono veramente grossi e spaventosi, ma questo lo vedremo. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica in cui andremo a vedere gli animali più grandi esistenti o esistiti, quindi ci sarà pure qualcosa di estinto che potrebbe spaventarvi. Se volete scoprire qualcosa di nuovo pure oggi e tornare a scuola per dire ai vostri professori cos'è tipo una balenottera azzurra, assolutamente seduraiatevi e cominciamo il video. Paraceraterium Può sembrare un medicinale dal nome ma non lo è. Parliamo di mammiferi estinti che hanno vissuto nell'Asia centrale circa 20-30 milioni di anni fa. Erano gli antenati dei rinoceronti di oggi, ma non avevano corna. La loro altezza era di circa 5 metri e mezzo, con una lunghezza di 8 metri. Sul peso ci sono un po' di leggende, ma la cosa più veritiera parla di qualcosa intorno alle 10 tonnellate, quasi 4 volte l'elefante africano. Alcuni addirittura arrivavano a dire pesasse 20 tonnellate. Nonostante fosse il più grosso, non era per niente il più cattivo. Anzi, era un erbivoro, quindi potevate stare tranquilli. Più o meno, eh. Non vi avrebbe aggrediti senza motivazioni, ma forse vi avrebbe pestati senza vedervi. Grazie al collo lungo poteva cibarsi di foglie sugli alberi molto alti, in stile giraffa. Nonostante non avesse nemici in grado di tenere di testa, si è estinto a causa di fattori naturali, come per esempio il cambio di clima, da un'era all'altra. Insomma, almeno stavolta l'essere umano non c'entra niente con l'estinzione di un animale, dai. Squalo balena Fermi tutti, il nome sembra far paura, ma non è così spaventoso. Ne avevo fatto un accenno in un video precedente, ma stavolta ne parlerò meglio perché è un cucciolone gigante adorabile. Prima di tutto è il pesce in generale più grande del mondo, ed è più squalo che balena. Queste ultime non rientrano nella classifica dei pesci più grandi perché sono mammiferi. Comunque sì, ho detto prima che sono giganti adorabili perché non arrecano danno all'essere umano, anzi sono molto amichevoli con noi. E sfortunatamente li stiamo uccidendo tutti senza rendercene conto con la plastica. Si nutre di plankton e di pesci azzuri in generale, una categoria di pesci che hanno tante specie al loro interno. È lungo fino a 20 metri, con un peso medio di 34 tonnellate. La sua pelle è tra le più spesse in circolazione nel mondo animale, con circa 14 centimetri di spessore. Molti sono i sommozzatori che riescono a farsi foto con questi bestioni e tanti sono anche quelli che desiderano farne. L'ultima parte di questo nome, che non dirò mai più in tutta la mia vita, è uguale al modo in cui chiamo spesso la mia ragazza. Spero non mi abbia sentito. Comunque è un genere estinto di pesci. Vissero 165 milioni di anni fa. Fino al 2002 non erano stati trovati tanti fossili di questo animale, perciò non si poteva dire con certezza se fosse o meno uno dei più grandi. Beh, dopo appunto aver trovato uno scheletro molto completo nel 2002, si è scoperto essere non solo uno dei più grandi, ma il più grande pesce esistito. Poteva raggiungere una lunghezza di quasi 30 metri, partendo da 10. Non era però il più grande vertebrato degli oceani, primato che spetta alla balenottera azzurra. E non era poi tanto cattivo, visto che si nutriva anche lui di plankton e piccoli pesci. Cavolo, i plankton esistono da tanto tempo solo per essere sempre mangiati, che vita del cavolo! Nonostante le dimensioni, questo pesciolone veniva bullizzato e inseguito da altri super predatori. Cronosaurus Se fosse un boss finale di qualche gioco sarebbe tosto da battere. Il Cronosaurus era uno dei più grandi rettili marini predatori, del periodo Cretaceo inferiore. I suoi resti fossili sono stati rinvenuti in Australia e in Sud America. Aveva quattro pinne che utilizzava per scattare e catturare velocemente le prede. Erano come propulsori per darsi delle spinte disumane. Quasi nessuno poteva sopravvivere al suo passaggio. Secondo alcune stime dovrebbe essere lungo circa 9 metri, massimo 10. E faceva parte della famiglia dei pliosauri, che sono caratterizzati appunto da un aspetto come il suo. Ma non dovete assolutamente pensare ci fosse fratellanza tra di loro. Anzi, il Cronosaurus se li mangiava tutti non importava di che specie fosse, non era razzista. Ingurgitava qualunque pesce di qualunque dimensione e colore. Poteva essere forse considerato un re dei mari. Titanoboa Ah, ma quanto adoriamo il Titanoboa. I suoi racconti superano ogni leggenda, trasformandosi a volte in storie da fantasy. Nei videogiochi è pure uno degli animali più spaventosi da affrontare. Sì, esatto, in Ark Survival spesso e volentieri cambiavo zona dove edificare pur di evitare sto coso. È un genere estinto di serpente vissuto in America meridionale circa 60 milioni di anni fa. Secondo i resti ritrovati, hanno affermato i ricercatori potesse anche raggiungere i 15 metri di lunghezza e in alcuni casi superarli, con un peso di una tonnellata o più. Sembra l'abitat in cui vivesse ai tempi, cioè le foreste tropicali dell'America meridionale, fosse ancora più caldo a causa della sua presenza che, da sola, riusciva a emanare un calore tale da superare due o tre volte quella presente oggi. Era un predatore in grado di tenere testa ai peggiori di allora. In pochi osavano provocarlo. Come saprete, nell'età moderna è normale utilizzarlo come mostro nei film o nei cartoni, perché sembra fosse spaventoso, proprio come viene descritto. Come cena solitamente optava per i coccodrilli giganti. Una cosa da niente, ne? E pausetta quiz. Chissà dirmi a quale film si riferisce questa sequenza? Risposta alla fine del video, forse, e andiamo avanti. TANISTROPHIUS Devo dire che i nomi degli animali di un tempo erano veramente molto fighi. È un rettile estinto appartenente ai protorosauri e conosciuto per essere stato quello con il collo più lungo, in proporzione al corpo. Avete notato come le loro fattezze sembrino uscite da un circo? Beh, i suoi resti sono stati ritrovati in Europa, in Mediorente e Cina. Poteva raggiungere i sei metri, di cui tre metri però erano solo di collo. Possedeva un corpo snello. Non da modella, ma magro per l'epoca, in confronto ad altri dinosauri. Il cranio era corto e piatto, ma con un muso allungato. Erano dei rettili semi acquatici. Sembra si nutrissero per lo più di pesci piccoli senza attaccare prede troppo grandi. Lo Shonisaurus fu uno dei più grandi ittiosauri mai vissuti. Ma solo a me il nome sembra quasi una parolaccia straniera. Comunque sia, gli esemplari più grandi della specie potevano raggiungere anche i 20 metri. Somigliavano moltissimo ai delfini. E in effetti il loro modo di riprodursi e far uscire i cuccioli è simile. Sono stati ritrovati i primi resti in Nevada e hanno vissuto circa 215 milioni di anni fa. Aveva un muso lungo e stretto. Le sue pinne erano molto più lunghe e strette rispetto a quelle degli altri ittiosauri e pesava oltre 60 tonnellate. Spinosauro Vissuto tra il Cretaceo inferiore e il Cretaceo superiore in Egitto, Marocco e Algeria, Nord Africa, i fossili di questo animale erano stati scoperti addirittura nel 1912. Fu uno dei più grandi teropodi conosciuti, superando addirittura in lunghezza il tiranno sauro o il gigantosauro. Sì, c'era un animale che si chiamava pure gigantosauro per quanto era grosso. Il suo cranio era lungo e stretto e poteva raggiungere i 15 metri di lunghezza negli esemplari adulti. Anche lui era un predatore semiacquatico che si cibava principalmente di pesci e di altri animali acquatici. Lo avrete visto in alcuni film sicuramente grazie alla sua postura. Argentinosauros huinculensis Se volete offendere i vostri amici, penso un nome del genere faccia proprio al caso vostro. O almeno l'ultima parte, cioè huinculensis. Lo so, a volte mi sembra di avere 5 anni pensando sempre male su qualunque tipo di nome. Faceva parte dei sauropodi ed è stato scoperto per la prima volta in Argentina. Da qui la prima parte del nome. Secondo gli studiosi potrebbe essere stato il dinosauro più grande di tutti. Visse circa 100 milioni di anni fa. Solo una vertebra di questo bestione superava i 150 centimetri. Non si è molto sicuri, ma alcuni ricercatori affermavano potesse superare anche i 40 metri di lunghezza. Anche se altri erano in disaccordo di una cosa sola erano sicuri però che superasse almeno i 30 metri. Il peso era qualcosa che andava dalle 80 alle 100 tonnellate in base all'esemplare. Balenotter azzurro Ed eccoci all'essere vivente più grosso sul nostro pianeta attualmente. Raggiunge i 33 metri di lunghezza con ben 150 tonnellate di peso. Sfortunatamente in pericolo di estinzione, quindi difficilmente avvistabile in questi anni. Pensare che fino agli inizi del ventesimo secolo si poteva trovare in quasi tutti gli oceani del mondo. Poi i cacciatori di balene hanno esagerato e siamo arrivati al punto da avere 5.000, massimo 12.000 esemplari. Prima dell'agnentamento quasi totale pensate che superavano anche i 300.000 a popolazione. Quindi chissà quanti erano in totale nel mondo. Ha un corpo lungo e snello come se l'avessero stirato con un ferro da stiro. Si nutre quasi esclusivamente di krill. Una balenotter azzurra adulta può mangiare fino ai 40 milioni di krill al giorno. Ma poveri krill, nessuno pensa a loro. A causa della sua gola non può ingoiare grandi prede. E quindi un uomo se inghiottito può rimanere dentro l'enorme bocca ma non finirà mai nello stomaco. Ovviamente non attaccherebbe mai un essere umano. Pecora più grande Questa pecora non è conosciuta come la specie più grande perché è nata così ma perché sono 5 anni che nessuno le dà una tosatina. Si trovava in Australia e pesava 40 kg di lana merino. Alcuni l'hanno ritrovata a vagare senza padrone tra i boschi nel 2015. Tutta quella folta lana poteva danneggiarla perché era arrivata a un punto estremo. Per fortuna Ian Elkins, campione di tosatura insieme ad altri colleghi, l'ha sistemata per bene. Ad oggi pesa 40 kg totali senza la lana, che però è inutilizzabile e impura. 40 kg di lana merino non era un modo di dire. In totale pesava 80 kg. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto. Noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. Reviso per la visione di tosatura. Ciao. Come vipero di tutto ilczyno di me Facebook. Spero il video di quello che mi piace di Twitter non interpettarsi.